Non ci sono grandi rischi da allagamenti nell'ambito della comunità montana di Montemaggiore, ma certamente sì quelle di zone franose. Anche alla luce degli eventi catastrofici che hanno colpito l'Emilia, lasciano riflettere perché potrebbero verificarsi anche da queste parti. Ma cosa sta facendo la comunità montana di Montemaggiore per alvei e corsi d'acqua o zone franose? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'Ente Montano, che ci ha assicurato e anche dato una notizia in esclusiva sulla prevenzione di questo territorio. La fragilità del territorio ricopre l'intera regione Campania, non il Monte Maggiore in sé per sé. È chiaro che il territorio montano ha maggiore fragilità in Dalsenzo. La regione si è impegnata a finanziarci l'attività sul territorio in virtù di una proficua attenzione all'idraulico forestale. Noi facciamo soprattutto questo. Siamo soprattutto e prima di tutto protezione civile. Ed oltre ad essere protezione civile dobbiamo anche salvaguardare e proteggere il territorio. E lo stiamo facendo. Cosa avete in programma esattamente? Insomma, come pensate di organizzarvi? In programma è proprio mettere a disposizione gli operai per pulire gli alvei, per pulire gli stratelli, per cercare di alleviare i problemi dell'intero territorio. Perché poi sappiate che noi siamo soltanto, diciamo, i comuni, i nove comuni, siamo a 14.000 ettari. Con gli altri sette comuni che sono entrati, e forse successivamente andremo anche a intervenire sugli altri sette, diventeremo 36.000 ettari. Quindi un intervento di un numero di 80 persone, 85 persone, su 36.000 ettari, penso proprio che è una goccia nel mare. Però facciamo la nostra parte e la faremo al meglio. Proprio stamattina ho avuto notizia perché noi abbiamo programmato anche nuove attrezzature. Abbiamo programmato altre due strutture per pulire gli argini. altri due trattori con dei spugliatori per pulire gli argini. Abbiamo programmato due porter. Abbiamo programmato dei bob cart per intervenire subito. E effettivamente il nostro programma è stato ritenuto valido. ed è stato, aspettiamo a giorni, ad ore, il decreto per procedere all'acquisto di queste attrezzature, con tutte le norme attuali che ci sono in materia di acquisti. Quindi la Regione Campania ci ha finanziato per un importo di 600.000 euro l'acquisto di questa attrezzatura, attrezzature importanti. Quali sono i tempi di acquisto dei mezzi? I tempi di acquisto saranno intorno al... Se fra due giorni arriveranno i degredi, nell'arco di due o tre mesi noi abbiamo le strutture, per cui le strutture a disposizione. Già adesso quelle che teniamo stanno funzionando. Però avremo anche queste altre strutture aggiuntive che andranno a potenziare l'intervento.